Mi siete mai chiesti perché siamo particolarmente legati al valore ISO e soprattutto perché consideriamo il disturbo ISO un problema? Questo non è affatto un problema e cerchiamo di capire in questo video cos'è il rumore ISO, come lo si può evitare e soprattutto migliorare in post-produzione. Voglio sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate voi del rumore ISO, se per voi è un problema o se lo considerate anche un utilizzo creativo all'interno della fotografia. Come abbiamo visto nel video in cui si parla della triade dell'esposizione, ovvero ISO, diaframma e tempo di scatto, abbiamo scoperto che il valore degli ISO non è altro che un'amplificazione data dal sensore, appunto da parte del processore, che ci permette di andare ad amplificare quelli che sono i segnali che escono al di fuori del sensore, dove lì in quelle condizioni particolari di luce non possiamo andare a compensare con tempo di scatto e diaframma, ma appunto dobbiamo alzare quelli che sono gli ISO. Gli ISO sono sempre esistiti all'interno della fotografia, anche sulla fotografia analogica, prima si chiamavano ASA e sono quelli che ci garantiscono la sensibilità alla luce del sensore o della pellicola. Il rumore ISO è da distinguere in due differenti tipologie di rumore. Abbiamo il rumore di luminanza e il rumore di crominanza. In questo caso possono sembrare la stessa cosa, ma in realtà non lo sono. Infatti, come dice la parola stessa, il rumore di luminanza è appunto un rumore che va ad alterare la luminosità di ogni singolo pixel. Questo è dovuto soprattutto alle lunghe esposizioni che andiamo a realizzare con degli ISO un po' più elevati, ma è comunque presente anche all'interno di singole esposizioni dove utilizziamo degli ISO molto più alti. Mentre abbiamo il rumore di crominanza che va a distorcere quelle che sono le informazioni dei singoli pixel o appunto catturate dai singoli fotodiodi e appunto va a generare dei problemi di colore, quindi dei puntini che contengono delle dominanti cromatiche quali magenta e verde molto spesso, all'interno dell'immagine. Ovviamente questi due problemi possono essere risolti in fase di postproduzione, ma soprattutto possiamo cercare di evitarli in fase di scatto. Come stavo dicendo prima, il rumore ISO non è un problema. È qualcosa che può rendere l'immagine anche interessante, che genera quella granulosità e soprattutto che possiamo lasciare alcune volte in determinate condizioni. Non so perché nel corso del tempo si sia arrivati a questa conclusione che l'immagine più pulita e più scattata con ISO bassi meglio possa risultare. Ci può stare che in realtà con ISO bassissimi noi abbiamo pochissimo rumore digitale, che appunto non va a cambiare quelli che sono i colori e la luminanza di ogni singolo pixel. Ma questo non vuol dire che l'immagine sia sbagliata se scattata con ISO 6400. Infatti ci sono condizioni dove dobbiamo scattare con determinati diaframma e tempi. Abbiamo la necessità di dover alzare per forza gli ISO, che possiamo sì ripulire un pochino, ma non c'è bisogno di rendere l'immagine completamente perfetta. Il rumore ISO ovviamente può essere evitato in determinate circostanze, perché appunto dipende anche da cosa stiamo andando a scattare in determinati modi. Ad esempio, iniziamo a considerare che più è basso il valore degli ISO, quindi ISO 100 in questo caso, più sarà bassa la preamplificazione dei segnali che fuoriescono dal sensore digitale. Ci sono anche alcune fotocamere che arrivano a ISO 75, 50, 25, dove appunto la preamplificazione si va quasi ad annullare, il che ci garantiscono un'immagine davvero pulitissima. Ma in questo caso abbiamo bisogno di fonti di illuminazione davvero molto forti, quali sono il sole o luci in studio. Ovviamente più saliamo con il valore ISO, più andiamo a generare rumore di crominanza e luminanza, che può essere però facilmente risolto tenendo conto di alcune piccole cose. Se stiamo parlando di fotografia in studio, ovviamente non abbiamo nessun problema, basta semplicemente alzare quelle che sono le luci e appunto la potenza di queste ultime. Mentre se siamo in alcune condizioni, quale fotografia in notturna, possiamo evitare il rumore ISO cercando di scattare con diaframmi molto aperti, con tempi di scatto limite. Quindi su un 50 mm stare a un cinquantesimo di secondo, f1.8 ad esempio, ci permetterà in notturna di riuscire a scattare con ISO 400, ISO 800, che appunto possono essere comunque dei buoni valori in notturna. Però questo dipende ovviamente dal tipo di illuminazione che stiamo utilizzando. Mi immagino ad esempio invece la situazione in cui realizziamo delle foto in locali chiusi, dove abbiamo ad esempio un flash a slitta posizionato sulla camera. In quel caso possiamo lavorare con degli ISO anche abbastanza elevati, tipo 3200, perché se andiamo a compensare con il flash, in quel caso nonostante gli ISO saranno alti, avremo meno rumore. Perché sì, aumentare gli ISO all'aumentare della luce rende il rumore meno visibile. Infatti a parità di ISO, ad esempio 3200, se illuminiamo con poca luce o con molta luce, compensando poi il tempo di scatto eccetera, abbiamo comunque un rumore differente. E vi mostrerò dopo alcune immagini, ad esempio scattate in queste condizioni. Un'altra cosa che ci può aiutare nella riduzione del rumore degli ISO è soprattutto che tipo di fotocamera stiamo andando ad utilizzare. Infatti a parità di megapixel, consideriamo ad esempio delle fotocamere a 20 megapixel, più il sensore sarà grande, meno sarà il rumore generato dagli ISO. Perché in quel caso avremo dei fotodiodi più grandi, che saranno in grado di catturare molta più luce. Quindi un full frame rispetto a un micro 4 terzi avrà sicuramente meno rumore a parità di ISO. Quindi quando acquistate una macchina fotografica cercate anche di tenere particolare attenzione a queste cose, perché renderà la vostra fotografia migliore. Il rumore digitale non è dovuto solo al valore degli ISO. Infatti possiamo avere del rumore anche dovuto a delle lunghe esposizioni, anche se scattate in notturna, ad esempio con ISO 100, però per 25-30 secondi, il riscaldarsi del sensore, soprattutto mandare un segnale costante da ogni singolo fotodiodo, può essere alterato appunto da quelli che sono i segnali elettrici, il riscaldamento del sensore e vari fattori che possono andare a generare comunque del rumore all'interno dell'immagine. Quindi con questo voglio definire che il rumore all'interno dell'immagine non è dovuto solo al valore degli ISO, ma anche alle condizioni in cui stiamo andando a scattare. In questo caso sulle lunghe esposizioni ovviamente sarà molto inferiore rispetto a che scattare con degli ISO più alti, però sappiate che comunque si andrà a generare del rumore, che è facilmente risolvibile poi semplicemente in camera RAW, in Lightroom o qualsiasi software che ci permette di elaborare dei file RAW. Ovviamente se state scattando il RAW è molto meglio perché risolvere il rumore ISO su un file RAW ci permetterà appunto di controllare manualmente quelli che sono i parametri per andare a correggere i colori, la luminanza eccetera, rispetto a che lavorare ovviamente su un JPEG che fuoriesce così dalla camera, dove magari abbiamo già attivato la riduzione del rumore che va un po' a impastare completamente la fotografia, dato che va comunque ad applicare nello stesso modo la riduzione del rumore su tutta la fotografia, senza andare a mascherare su più livelli quella che è la riduzione del rumore, cosa che in realtà invece possiamo fare su Fire RAW, su Camera RAW eccetera. Spero che con questo video il rumore digitale e il rumore ISO sia più chiaro e soprattutto che non vi spaventi l'utilizzo di questo rumore digitale, perché davvero in alcuni tipi di contesti postarci la granulosità è bella, è sempre esistita in fotografia e anzi ci sono persone che utilizzano anche dei filtri, la vanno ad aggiungere, quindi perché provare a rimuoverla? Ci può stare che ovviamente su alcune tipologie di fotografie non è richiesta la granulosità, però iniziate magari anche ad utilizzarla su delle fotografie che possono essere rese particolari ed interessanti. Se questo video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace ed iscrivervi al mio canale. Noi ci vediamo in un prossimo appuntamento, vi ricordo di seguirmi sui miei social, trovate i link qui sotto in descrizione, dove appunto anche tramite Instagram pubblico giornalmente delle storie sia dallo studio ma soprattutto delle piccole guide e trucchetti che potete utilizzare anche in ambito fotografico, video e di ritocco. Un saluto da Marco, ciao a tutti! Grazie a tutti!